Aprile 2021 è questa la data fissata per inizio dei lavori presso l'ospedale San Massimo di Penne. Il progetto esecutivo che apporterà miglioramenti sismici degli ambienti e degli impianti sarà approvato stando al cronoprogramma la prossima settimana. I lavori complessivi ammontano a circa 13 milioni di euro e in due anni porterà al potenziamento anche dei posti letto di circa il 40%. La sottoscrizione tra Ministero della Salute e Regione Abruzzo vincolerà la somma, quindi destinata al solo ospedale dell'area Vestina. con investimenti ulteriori su personale e tecnologie. La settimana prossima presentiamo questo progetto esecutivo, una struttura personale, organico e anzi una promessa. In aprile metteremo la prima pietra, quindi ci rincontreremo a primavera con la posa della prima pietra. Ecco Dottor Ciamponi, nei giorni passati c'era stato anche un incontro con la Fialz, avevano chiesto la possibilità di non ristrutturare questo San Massimo ma di fare proprio una struttura nuova, penso sia impossibile a questo punto. Due motivi, il primo è che abbiamo un finanziamento vincolato, rischeremo di perdere il finanziamento. Fare una struttura nuova, l'impegno finanziario sarebbe molto più importante rispetto a quello attuale, quindi è giusto proseguire su questa strada. I cittadini dell'area Vestina sono stati delusi negli anni perché hanno sempre sentito parlare di una cifra importante di oltre 12 milioni di euro però nulla si vedeva. A questo punto invece esiste un progetto, addirittura quindi speriamo che ciò sia vero dal punto di vista anche del cronoprogramma esiste una data che è quella di aprile in cui dovrebbero iniziare i lavori. Quindi io dico per adesso va bene così, è chiaro che molto si potrà fare e si dovrà fare ancora oltre quello che è stato detto oggi. Si è parlato appunto di un contenitore, però appunto il contenitore al proprio interno deve avere un contenuto che è un contenuto umano e anche di strumentazioni di medici, infermieri, osce, di persone che possono far andare avanti l'ospedale che è fatto, ripeto, di tecnica, spazi ma soprattutto di figure professionali umane.